le posito almeno un cortello questo qua lo metto qua ok quindi questa santa vuoi sbloccato infatti si adesso andiamo dove sta l'alberello abbiamo detto perché in pratica dobbiamo andare a mettere quello che abbiamo adesso minnaggia ali mortaggi 2 che cazzo sta vabbè poi è pronta ma è congelata e la possiamo usare voi andate ragazzi forza ok ecco qua questa è la scheda del livello 3 attenzione soluzione pericolosa dispersa senza autorizzazione siete stati monitorati e sarete soggetti a misure disciplinari ma adesso è l'ultimo oh no livello 3 ok ci devo dire giù se c'è qualche altra cosa ancora allora la mania riceviamo le scale andiamo alle scale andiamo sopra come sapete un colpo in più è sempre bello naggia naggia Sì Ok ragazzi Allora possiamo Abbiamo il livello 3 ragazzi adesso Però non andiamo a fare il livello 3 Ma abbiamo Bensì andiamo direttamente A sbloccare l'altra porta Poi ritorniamo qua E andiamo avanti E' ancora lungo sto gioco ragazzi Abbiamo parlato e abbiamo fatto quasi 4 ore di live Vabbè tra pause eccetera Andiamo a 4 ore Allora Andiamo adesso A mettere anche qui Dobbiamo vedere come si chiama Il c'è un po' troppo sopra Questo si chiama M.U.F Com'era M.U.F Com'era No no Ma quel cazzo era Abbiamo fatto prima Ok Abbiamo dato corrente Anche a questa stanza Che cazzo di problemi ha Di spazio ancora in più Se non ero ragazzi Il borsello serveve lo spazio Quindi E' come se avremmo recuperato Non so sti cose A che cazzo servono Comunque Me lo so stavre chiesto Qualcuno Allora Dio salvo Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb non c'è la corrente della struttura porca miseria attaccato in ceppi nei muri andiamo a salvare anche quest'altra mezza quindi il lato est nel laboratorio qui l'abbiamo completamente fatto a parte che qua giustamente adesso ci porta questo per rosso perché sanno le due piante raga ok sono le due piante che rompono il cab si sentiamo la prende con le due piante così ma no anzi andiamo a fare l'altra parte a destra ma ci pure la livello 4 quindi non abbiamo ancora pronti livello 4 ma abbiamo soltanto il livello 3 e dunque adesso andiamo a sbloccare il livello 3 ok abbiamo sbloccato il livello 3 del gioco c'è di questo capitolo diciamo qua qui c'è la maschera quindi può essere un altro soldato un'altra videocassetta un'altra bomba mettiamo qua quasi salvato automatico questo questo si chiama a casa un salvataggio un salvataggio ragà è un salvataggio in baule in baule ci mettiamo l'altra bomba dentro dovrebbe essere un salvataggio quindi qua c'è il registratore ma non funziona forse che non c'è corrente ragazzi aspettate questo si chiama oss quindi in pratica andiamo a darci la corrente no andiamo a darci la corrente oss e 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 vediamo un po' qui cosa è successo in quest'altra parte del gioco e 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 che cazzo ti è saltato in testa gli ordini erano di catturarlo vivo g martinez ragazzi è e 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 ho posto resistenza ed è stato abbattuto esatto signore ricevuto preleviamo il campione muoviamoci ok adesso la videocassetta non mi serve più la depositiamo ma non c'è un punto di salvataggio e non so non so non c'è un punto di salvataggio qua devo andare sempre a pallonato l'occhio la puoi per salvare non c'era un punto di salvataggio vedi qua dice che c'è un punto di salvataggio eh l'ho visto sti come anche sei stupido questo è qua dentro c'è qualcosa non c'è un chiesto non c'è un punto di salvataggio per favore il e altri vetri mi puccio sta stronzata sala io vabbè sti cazzi oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda